...e parole, che se senti a chiaro ciò che vuole, lo scontriremo ad ogni inizio mese, lo capiremo a nostre spese, da quale c'è che ci ha rinziato. A tale voglia adesso fare i venti, l'operato del grande Innocenti, che ci mette e sembra un disco registrato, recupera in fretta l'arvebrato, se non è tutto, poi finirà. Ha creato in tutti noi una maltenzione, che è venuta in una diversione, proponendogli una rara un bel mandato, lui felice l'ha accettato, non ci potrà mai più stressare. Per finire le mani difficili il pezzetto, anche l'amministrazione ha detto, tutto il giorno va su e giù per il bancone, per l'andata in serazione, l'azzo non ce la può fare. Voi, colleghi, non voglio scherzare, tanto si è che un gruppo eccezionale, tanto in sorrisi che mai una schermagna, sta con voi una meraviglia, più bella che lavorare. e poi la grande Innocenti se ne va, non lo metti in moralità, nessuno non ci potrà mai studiare. e poi la grande Innocenti se ne va, non ci potrà mai studiare. Aspetta! che non ho mai troppa attenzione, ma se sono giù grande il pallone, che nell'area di Firenze ha il primo posto, e non manterrà un riposto anche se ne va a ricardare. Sì, c'è subito, questa sera, dopo, dopo. Grazie.